Ciao ciao ciao, il tuttologo colpisce ancora, il tuttologo, il tuttologo Harvester Rotne, Harvester Rotne, Harvester Rotne, Harvester Rotne È una bomba ragazzi, ho visto le immagini e è una bomba, ce ne sono un casino Praticamente sono macchine per il legno, è cambiato il mondo Non esisteranno più i negozi, non esisteranno più i soldi, non esisterà più un cazzo E ci sono solo macchine, solo macchine, capito? Non dico che è il mondo migliore, anzi è un mondo ingiusto Perché è tutto basato sullo sfruttamento delle materie prime, hai capito? Ma il mondo va in questa direzione Guardate, e anche dei paesi poveri che comunque Tanto l'occidente si basa sulla povertà dei paesi poveri purtroppo Guardate che roba, guardate che roba ragazzi, guardate che meraviglia Queste seghe gigantesche tagliano il legno praticamente E poi dopo, vabbè comunque tutta la polemica sui boschi, sono d'accordo con voi, è uno schifo Allora praticamente cosa succede? Le segano, le segano e poi dopo le depilano, capito? Come vi depilate Come quando le donne si depilano, capito? Ma una roba pazzesca ragazzi Una potenza inaudita Rotne, advance rotne Advance rotne, guardala Ti dai il legno, poi dopo lo porti nelle macchine Ci sono le fresature Cioè, tutta la roba che avete in casa È roba fatta in macchina Non c'è niente di fatto a mano Nell'economia di oggi nulla è fatta a mano Nulla Non c'è niente di fatto a mano 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 Grazie a tutti.